Il secondo posto non è ancora matematico ma è molto vicino per il Martina. Merito del pari di domenica scorsa al 21 settembre Franco Salerno contro il Matera. Tre i punti di vantaggio per la squadra di Massimo Pizzoli sul Nardò quando mancano 90 minuti al termine della stagione regolare. Potrebbe dunque bastarne uno classifica la mano al collettivo della Valle d'Itria dunque per chiudere il campionato in piazza d'onore e garantirsi di conseguenza il fattore campo sia per la semifinale playoff che per l'eventuale finale. Massimo Pizzoli tuttavia non vuole calcoli chiede alla sua squadra di battere il Gallipoli nel derby casalingo in programma domenica prossima al Tursi a partire dalle ore 15. 65 punti per noi sono tantissimi, è veramente un grande obiettivo. Noi vogliamo provare a chiudere domenica con 68 punti per arrivare alla media di due punti che ci permetterebbe eventualmente in caso di vincere il playoff di avere un posto tra le prime. Perché, parliamoci chiaramente, è quello l'obiettivo. Sì, è vero, bisogna vincere il playoff, però chi vince il playoff con una media molto bassa rischia di essere la nona, la decima. Noi abbiamo la fortuna di aver fatto tanti punti e cercheremo di portare a casa questi playoff per avere una piccola. Se c'è una possibilità su 100, come dicevano oggi i tifosi, noi la vogliamo sfruttare. Solo la strepitosa altamura di Domenico Giacomarro è riuscita sin qui a far meglio in termini di punti del Martina, a cui va riconosciuto sicuramente il merito di aver sopravanzato in classifica realtà sulla carta più quotate a livello di organico e con un budget di partenza superiore. Pizzulli e i biancazzurri però non vogliono minimamente accontentarsi e puntano ad un grande finale di stagione, prima il Gallipoli e poi anche e soprattutto i playoff.